Ciao, sono Ivana Sacca e Dominic Giliberto e siamo consulenti immobiliari della Casa Quattro Pareti. Oggi vogliamo darvi ancora una ragione per affidare i tuoi progetti immobiliari alla nostra agenzia. Perché affidarsi a noi significa avere il meglio nel settore immobiliare. Comprovvigioni proporzionate ai servizi offerti. Meglio di così. Arrivederci a tutti. Ciao, a presto.